Beauty and the Cyborg Ciao a tutti, oggi sono qua per parlarvi di Beauty and the Cyborg di Miriam Ciraolo. Questo libro mi è stato inviato dall'autrice che è una persona veramente eccezionale. È stata veramente troppo gentile e carinissima inviarmi il suo libro e io l'ho semplicemente adorato. La storia è ambientata in un ipotetico futuro in cui in seguito all'inversione dei poli c'è stato un blackout mondiale. Dopo la guerra della Nuova Notte il mondo è stato diviso in regni controllati dai cyborg e ogni forma di elettricità è stata bandita. Oltre all'elettricità è stato vietato anche di leggere e scrivere. La protagonista della nostra storia è Bellatrix Sparks che vive al nido di spine. È una vera e propria ribelle che sa leggere e scrivere grazie alla madre ed è ricercata per aver azionato una torcia. Mentre cerca di fuggire dal nido di spine viene catturata dai trafficanti di schiave destinata ai sovrani di Elettra. Assieme ad altre ragazze Bellatrix viene scelta per servire a palazzo e ben presto si ritroverà nella misteriosa Alla Overs dove si dice che si aggiri un'ombra. Questa storia oltre ad essere un distopico è anche un retelling ovvero una rivisitazione della storia della Bella e la Bestia. È un libro veramente super emozionante, pieno di avventura, di misteri, di azione. Wow! Tra l'altro io non ho letto tanti retelling ma questo secondo me è uno dei migliori perché nonostante si faccia a una storia che tutti noi ormai di sicuro conosciamo come appunto la Bella e la Bestia è una storia secondo me totalmente originale. Non c'è niente di scontato in questa storia né di banale, i riferimenti alla storia originale sono veramente eccezionali perché appunto il lettore si perde in questa storia praticamente nuova e ogni tanto coglie dei riferimenti appunto alla storia invece che già conosce. I personaggi sono veramente fantastici perché sono tutti molto interessanti, molto veri, molto sfaccettati. La protagonista, Bella Triss, mi è piaciuta veramente tanto ed è una cosa molto rara in questo genere di libro perché io di solito odio tutte le protagoniste perché le trovo un po' tutte uguali, un po' finte, mentre Bella mi è piaciuta veramente tantissimo. È una ragazza forte, intelligente, indipendente, magnifica. Mi è piaciuta tantissimo anche l'Ulabel, all'inizio sembra un po' una principessa spocchiosa, un po' l'antagonista della storia e invece non è per niente così, da subito si crea un certo feeling fra lei e Bella e l'ho semplicemente adorata anche lei. E poi l'ombra misteriosa dell'Ala Ovest. Oh mio Dio, io mi sono letteralmente innamorata di quel personaggio. È probabilmente il mio preferito di tutta la storia perché è molto riservato, un po' cupo, ha una personalità veramente troppo intrigante, mi ha ammaliata e affascinata fin da subito. E per quanto io odi Aston, ovvero l'antagonista di questa storia, il Gaston appunto della situazione, devo dire che è fatto bene molto anche lui, nel senso che già quando viene descritto come primogenito, muscoloso, col colino, io subito bene. Questo è veramente proprio Gaston, cioè proprio al 100%. Quindi il bello appunto di questa storia è che anche se si sta leggendo qualcosa di totalmente nuovo, ci sono appunto dei rimandi alla storia che il lettore coglie da subito e quindi può capire le dinamiche, diciamo, della storia. Una delle cose che mi sono piaciute di più di questo libro sono state le descrizioni. Mi sono veramente persa e incantata davanti ad Elettra, a come viene descritta, a come vengono descritti i nuovi oggetti, gli ambienti. E' stato veramente magico, più volte mi sono letteralmente persa nella narrazione pensando di essere veramente lì. E Elettra mi ha letteralmente affascinata. E' una storia molto carica di avvenimenti, succedono veramente un'infinità di cose, sono mi sembra 400 pagine circa e succede veramente il mondo. A volte ed è l'unica cosa un pochettino negativa che ho trovato, non stavo capendo che caspita stesse succedendo, ma semplicemente perché era un susseguirsi di cose, di eventi e io non riuscivo a starci dietro. Ma per il resto è veramente una storia magnifica, eccezionale. Come vi ho detto, uno dei migliori retelling che io abbia mai letto, perché anche se si rifà una storia già esistente, per me è stato come leggere una storia nuovissima. Io poi amo il genere distopico, mi piace anche quando viene inserito qualche elemento, diciamo, fantascientifico, perché alla fine ci sono un sacco di nuove tecnologie, si parla anche di cyborg, quindi di persone metà macchina, metà umani. E' da una parte veramente terrificante e dall'altra affascinante. Una delle cose che mi ha più terrorizzata è stata quando Bellatrice è stata rapita come schiava. E' una cosa veramente tremenda. Io, io ammiro tantissimo il coraggio di questa ragazza, di Bellatrice, perché io sarei veramente impazzita. E' una cosa che mi terrorizza a morte, essere rapita come schiava e venduta, insomma... Se vi piace il genere distopico, se vi piacciono i retelling, questo libro fa assolutamente per voi. E' una storia veramente bellissima. Io sono arrivata alla fine che avevo veramente il batticuore e non vedo l'ora che esca il seguito di questa storia. Presto dovrebbe uscire uno spin-off narrato dal punto di vista del mio personaggio preferito. E io non vedo l'ora perché sono molto curiosa di scoprirne di più su questo mondo. Perché mi ha intrigato veramente tantissimo e affascinata. E devo sapere di più di queste cose. Voglio assolutamente scoprirne di più. Questa era quindi la mia opinione su Beauty the Cyborg. Fatemi sapere qua sotto se siete curiosi di leggerlo o se l'avete già letto che cosa ne pensate. Perché sono molto curiosa di rapportarmi con voi. Spero che questo video vi sia piaciuto e noi ci vediamo alla prossima. Ciao! Ciao!